La protesta degli agricoltori continua con una colonna di trattori che attraversa le aree urbane di Corigliano e di Rossano, causando disagio al traffico lungo la statale 106 Onica. Le forze di polizia sono presenti per mantenere l'ordine pubblico. I manifestanti contestano l'abbattimento delle premierità dell'Unione Europea, il carogasolio, l'incremento dei costi delle materie prime, la concorrenza sleale, l'elevato costo di produzione ed il monopolio della grande distribuzione. La Regione Calabria la vedo completamente assente, non ha una visione dell'agricoltura. In più a questo governo dobbiamo addebitare che ad aprile non ha fatto il decreto per l'anticipazione della PAC che era stata portata al 70%. Quindi questi agricoltori aspettano anche la PAC stravolgendo quello che era una prassi consolidata negli anni che c'era questa anticipazione addirittura del 70%. La prima richiesta riguarda la tutela del costo di produzione che comprende non solo i costi basi ma anche una percentuale destinata al reddito degli agricoltori. L'implementazione di un piano assicurativo è un'altra richiesta chiave affrontando l'assenza di copertura attuale, la concorrenza sleale e le sfide della globalizzazione. Fare massa critica, di associare, queste associazioni di categoria hanno un ruolo importantissimo ed essere competitivi e stabilire i prezzi con la grossa catena di distribuzione. Intanto oggi le associazioni di categoria non ci sono? Come dire, far parte di quel sistema che non guarda la realtà ma guarda altrove. C'è la politica di mezzo secondo me? Anche.